Svolta nell'omicidio di Costella Ciobano, il romeno ritrovato decapitato e con un braccio amputato lo scorso 8 dicembre nelle campagne di Caltagirone. Dopo la segnalazione di un residente, i carabinieri hanno ritrovato a 200 metri da dove fu rinvenuto il corpo anche la testa dell'uomo che lavorava per un'azienda di lentini. Secondo gli inquirenti, le modalità del delitto sarebbero di stampo mafioso ma potrebbe anche essere maturato in ambienti esterni alla criminalità organizzata come una vendetta o uno sgarro tra stranieri.